Musica Nelle imprese pugliesi le donne rappresentano il 38% degli addetti, due punti in meno della media nazionale. Solo una donna su 10 occupa un ruolo da dirigente. Sono dati dell'Agenzia regionale per le tecnologie e l'innovazione riferiti ad aprile 2021. Tra le realtà che da anni sono impegnate per colmare il divario di genere nel mondo del lavoro e dell'impresa, c'è l'associazione Gamma Donna e noi abbiamo qui in studio la referente per la Puglia, Maria Rita Costanza. Benvenuta. Buon pomeriggio, grazie. Allora, abbiamo sentito i dati sulla imprenditorialità femminile in Puglia. Certo, migliorano un po', ma c'è ancora tantissimo da fare. E voi avete messo in piedi delle iniziative per promuovere proprio il ruolo delle donne imprenditrici. Certo, l'evento che avverrà venerdì, venerdì dopodomani nel Vivaio Digitale in Murgia Valley, ha l'obiettivo proprio di stravolgere quei numeri, quantomeno di contribuire a modificarli. Visto che arrivano da tutta Italia 10 imprenditrici in un tour organizzato dall'associazione Gamma Donna, che nel mio percorso professionale ha avuto un ruolo molto importante, direi anche decisivo. Quindi arrivano queste imprenditrici in Puglia con la volontà di attivare un tavolo di confronto tra imprenditrici locali e imprenditrici che hanno delle storie ciascuna diversa, con delle peculiarità anche molto relative alla regione da cui arrivano. Ecco, le chiedo, che ruolo possono avere le donne imprenditrici per l'innovazione del mondo delle imprese e viceversa cosa può fare l'innovazione per promuovere il ruolo delle donne nelle imprese? Sicuramente il mondo dell'innovazione, io direi oggi, è anche femminile, deve essere anche femminile. Un po' la storia mia, ma la storia delle imprenditrici che stanno arrivando confermano questo, e cioè la donna ha un punto di vista differente rispetto al punto di vista dell'uomo, ha delle attitudini differenti, questo per natura anche biologica. Quindi perché non approfittare di questo e magari far sì che convivano insieme uomini e donne, perché sono assolutamente complementari. Benissimo, benissimo. Allora, appuntamento lo ricordiamo venerdì a Gravina in Puglia, nel Vivaio Digitale. Grazie per essere stati con noi, a tutti, buon pomeriggio.